gentili telespettatori buona giornata il mitico enrico montesano in questi ultimi tempi ha fatto parlare di sé per delle prese di posizioni diciamo fuori dal coro sul covi del vaccino e quello che sta succedendo ha trovato molte persone che lo hanno sostenuto nelle sue idee ma ha trovato anche molte persone che lo hanno insultato e anche minacciato in maniera molto grave e dato le minacce che ha ricevuto ha dato mandato ad un avvocato di procedere contro queste persone io proprio ieri prima di questa sua dichiarazione in un mio video avevo consegnato avevo consigliato ad enrico montesano nel mio piccolo insomma alla fine è un canale che sta superando i 100.000 iscritti più altri 10.000 tra facebook il secondo canale 110.000 iscritti comunque comincia ad avere un suo discreto un suo discreto peso e quindi io proprio da questo canale avevo detto enrico montesano ma senti mitico enrico se ti se ti insultano pesantemente o ti minacciano denunciali si possono denunciare i leoni da tastiera è molto semplice questi pensano di essere nascosti dietro una tastiera ma in realtà non sono nascosti sono molto visibili alla polizia postale e così lui rivela all'agenzia di stampa adn cronos di aver dato mandato all'avvocato e dice sembra di stare in un regime totalitario dice così enrico montesano mi sono rivolto all'avvocato che non esiterà a procedere in tutti i casi in cui siano riscontrabili gli estremi della querela pagheranno in moneta magari così capiranno che insultare offendere augurare la morte solo per aver espresso un parere non conforme sollevato un dubbio che tra l'altro è alla base della scienza non è una cosa che può restare impunita sono d'accordo quelli che insultano la loro punizione di pagare migliaia di euro è l'unica cosa che si può fare faglieli pagare con quelli lì poi ti ci compri quello che vuoi perché molti dicono eh poi questi soldi li darò in beneficenza ma che beneficenza usali spendili regalali a chi vuoi ma denuncia denunciare sempre e comunque è un enrico montesano sconcertato è quasi attonito quello che in un lungo sfogo alla dn kronos rivela di aver ricevuto minacce di morte e augurio delle peggiori cose sui social in seguito alle domande poste dal dall'attore rispetto al covid al vaccino alla situazione generale della pandemia gli hanno detto spero che muori che muori spero che ti prendi il covid ma non eri già morto qualcuno gli ha anche scritto come dire ma io pensavo che tu eri già morto no beh sono sono alcuni degli auguri che hanno che ha ricevuto e la sconcertante lista di montesano e sinceramente dice non me lo aspettavo sempre espresso le mie idee con educazione e garbo ora io e il mio avvocato abbiamo fatto un elenco ben preciso e procederemo perché dice enrico montesano il dissenso il dissenso educato e sui contenuti benvenga ma le minacce e gli auguri di morte sono una cosa grave e non credo in coscienza che possano passare sotto il silenzio e su questo siamo d'accordo e lui dice mi sono limitato a dire che se ci sono delle cure alternative preferisco quelle per ora perché è scientificamente provato che ci siano dei farmaci che grazie al cielo hanno guarito tante persone sottolinea montesano la differenza è che se cominci una cura farmacologica che ti dà effetti negativi la puoi sospendere ma se ti iniettano un siero non puoi più farci nulla idee perfettamente lecide che hanno provocato però una reazione violenta sui social che l'attore non si aspettava quello che dice montesano ha ragione nel senso che ad esempio io stavo prendendo delle medicine perché mi blocco ogni tanto con la schiena la spalla ne prendo una medicina che per per queste cose tipo tipo laulin una cosa del giro ecco naturalmente dopo un po che prendi intanto le controindicazioni di questo medicinale ad esempio che prendo come tutti i medicinali sono spaventose perché se uno va a leggere le controindicazioni perché su un certo numero di di casi non so su un milione di persone che prendono sta ma sta medicina ci sono dei casi che ti fanno perdere la voglia di prenderlo dei casi gravissimi e nelle percentuali delle reazioni che possono avere alcune alcune persone beh io sinceramente dopo adesso la sto la sto prendendo in maniera limitata perché mi sono accorto che un giorno l'ho presa una volta l'ho presa per sei giorni consecutivi al sesto giorno cominciavo a girarmi la testa a non stare più in equilibrio quindi mi sono spaventato è una 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 medicina semi innocua per i dolori dei muscoli non è niente di eppure ha delle controindicazioni forti quello che dice montesano è questo una medicina la puoi sospendere come ho fatto io e se tu ti fai iniettare un vaccino e non puoi sospendere non puoi farci nulla ovviamente tutte le malattie tutti tutti farmaci di qualunque tipo hanno delle controindicazioni c'è sempre qualcuno che non le tollera o che che sale qualcosa male ma montesano dice hanno creato un brutto clima come cittadino nato in democrazia la cosa mi preoccupa molto perché non c'è più libertà di espressione non c'è più libertà di pensiero il dubbio dovrebbe sollecitare una pacata riflessione un confronto un ragionamento invece no o si accetta il loro pensiero o se hai un minimo di dubbio vieni subito criminalizzato è estremamente antidemocratico è totalitario è dittatoriale queste persone sono in preda ad una paranoia totale anche di fronte all'evidenza scientifica di alcuni dati nella valanga di insulti anche all'attore realmente ve ne posso dire solo alcuni perché voi sapete che non come dice montesano non c'è libertà di espressione io non posso dire parolacce non posso riferirvi in maniera giornalistica se io voglio riferirvi gli insulti ricevuti da montesano e non lo posso fare se io volessi prendere delle posizioni di un certo tipo sul covid e su tante altre cose che non posso nominare non lo posso fare o perlomeno lo faccio poi viene cancellato tutto quindi come dice montesano non c'è una sorta di di clima di censura il politicamente corretto è il primo indagato di questo mondo di censure che c'è adesso voi pensate realmente che i social network siano liberi dove potete scrivere liberamente il vostro pensiero no no ma hanno scritto quelle cose che vi posso dire gli hanno scritto tra l'altro comunista rinnegato tifoso laziale sparisci dici queste cose perché sei bip fascista ecco fascista no e gli altri che non vede altre accuse che non vi possono dire aggiunge poi longanesi diceva bevono un bicchierino di livore e poi parlano creano un po' di stress certo ma non mi spaventano perché la verità dice dice montesano non si può tacere per paura insomma anche montesano mitico attore che mi è piaciuto tantissimo nel film quello con con paolo villaggio dove lui fa il maggiordomo di un ricco paolo villaggio genovese non mi ricordo come si chiama qualcuno me l'aveva scritto in un altro video ma la mia mente la mia mente se ne va lo sento come diceva al nel film 2001 di sedano spazio la mia mente se ne va lo sento poi cantava anche giro giro tum duco al school si stava spegnendo il computer vabbè a parte le mie imitazioni cinematografiche io vi aspetto al prossimo video parleremo del berlusca che denuncia report e beh insomma è un mondo di denunce grazie e arrivederci a tutti